Ciao a tutti ragazzi da TheFaceGame, è mezzanotte, è mezza, anzi è luna. E Taylor cosa fa? Scopre che su Google Maps si possono cacciare i Pokémon. Come? Adesso guardate. Praticamente dovete scaricarvi l'applicazione originale di Google Maps dall'Android Store o dall'Apple Store e cercare il CERN di Ginevra in Svizzera. Guardate cosa viene fuori. Eccoci qua ragazzi, vedete? Quando è arrivato il CERN c'è la casetta del dottor Scemo lì, del professor Oak. Poi è andato in cerca dei Pokémon, io ho trovato uno qua vicino, ci cliccate sopra. Ecco qua, così, vedi? È apparso un Pokémon segreto, Belief, Belief, come cazzo si dice? Ho già catturato Pikachu, non dovete fare combattimenti ovviamente, voi cliccate solo sopra e vi dice è stato catturato un Belief il selvatico. Chiudi e niente, continuate a cercarne altri. Chiaramente ce ne sono sparsi per tutta la mappa, ora non so se esattamente in tutto il mondo o solo in Svizzera. Io ne ho trovati qua un, due, tre vicini. Non dovete tenere troppo dezoommato, dovete zoomare abbastanza per trovarli. Ce ne sono 150, io ne ho trovati tre, guardate ti faccio vedere. Uno qua, oddio un altro. Catturiamoli immediatamente. Che cazzo di animale è sto qui? Catturano. È apparso un Pokémon selvatico, cattura immediato. È catturato Emolga. Ma sono Pokémon nuovi, questi non li conosco. Sono rimasto a Blastoise, io. Pikachu e... Eccolo qua, un altro Pikachu stronzetto. L'avevo già catturato. Pikachu! Ah, forse ce ne sono tanti e 150 diversi. Perché guardate, io adesso vi faccio vedere il mio Pokédex. Guardate che cazzata, madonna. Troppo bello sto scherzo d'aprile. Catturati, vedete, Pikachu, Emolga, Blefi. E... E no, due Pikachu. Cazzo, funziona. Eh sì. Niente, ci sono 150 Pokémon diversi. Ovviamente l'obiettivo sarà quello di trovarli tutti. E... Il pesce d'aprile, ho letto, durerà fino al 2 aprile. Quindi, fino a domani. Se vi è piaciuto, ragazzi, cliccate su mi piace. Il pesce d'aprile è veramente una figata pazzesca. Condividetelo con i vostri amici, ragazzi. Fategli vedere sta cosa. Però funziona solo su dispositivi mobili. Quindi, Android e Apple Store. Non sul PC, almeno così ho visto. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti i nostri amici. Grazie a tutti.